Ragazzi, oggi febbre a 40 e mezzo, l'ho portata tre volte all'ospedale Fatti vedere, ciao Esicamente ora... Non posso sbagliarmi perché... No, non posso... non posso levarmi la coperta perché sono senza pantaloni Allora, siamo da Vittorio e abbiamo scelto la stanza più bella con la tv, il bancone Qua ci siamo un po' delle nostre... che c'è la luce Qua c'è Vittorio Qua c'è il tremometro, faccio i letti ingeruti e le case Qua dobbiamo misurarci la febbre perché è molto calda E misuriamoci Questo pulsante lo prendo, ci sono i fazzoletti, un altro fazzoletto, un'utente Ecco, ora ci dobbiamo misurare Perché io ho paura che ci sali e speriamo che ce l'ha a 38 E l'ho controllata, ora ci devo toccare la fronte per vedere se ancora è calda No, sono calda, sì Sì, è caldissima, raga Metti dell'Oriano Di cosa stavate parlando? Sì, è caldissima, bravo Quarante e mezzo Mettiamolo qua Mettiamolo qua Qua Mettiamolo qua dentro Vediamo se è vero E lo dice anche la macchina, giusto Mi prego Cosa? Mi prego, mi prego Metti i libri in mare i pandalloni Stai ragazzi stai mettendo i pandalloni Mettiamolo qua in mezzo Mettiamolo qua in mezzo Mettiamolo qua in mezzo Prima ho vomitato anche Eh, venti volte Prima ho vomitato Venti volte Potresti smetterla di assellarmi una buona volta Oh, hai parlato E il braccio E non mi mostra Il braccio Il braccio Eh, ti sto dolendo Con l'altra mano mi devi dolendo Ho fatto questo video per non perdere insulti Grazie Perché quando uno sta molto male Merda Pesa troppo Perché quando qualcuno sta molto male Non si deve Devo scaricare Aspettare Non ti devo vomitare In bambino Mi fai messo un bambino Ecco perché prima voleva sempre che la prendo in braccio 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 Ieri Perché avevo la bella È da ieri che mi faceva così In braccio In braccio In braccio In braccio In braccio Abbiamo fatto anche il video Mi ricordate? In braccio In braccio In braccio Mi prendi in braccio In braccio Andrei 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 Ti prego rispettare Ti prego Potete anche rispettare Grazie Mi fai male Volevo dirti Mi dispiaci tanto I braccio Un attimo Se non ti faccio male Per me hai lato di acqua Nella Acqua e ripetilo fammi registrare ragazzi si è ripresa meno male ragazzi mi è passata ce l'ho a quanto ce l'avevo? no non ce l'è più la febbre eh si ma a quanto ce l'avevo? a 40 e mezzo hai visto ragazzi? io mi sento ora meglio ci ho dato 4 pillole e 10 ieri eh si quindi allora è tutto vero o non è fake ragazzi? non è tutto fake è vero ragazzi è vero io non mi ero stordita ero stordita l'ho portata perché l'ho fatta mi ha portato all'ospedale per forza perché ci stavo salendo a 41 quando avevo bloccato il video è vero vero per questo non abbiamo potuto registrare abbiamo detto al dottore dottore possiamo registrare lui ha detto no ha detto fratellino vittoria però un attimino amore ti prego forza troviamo meno sti cosi la stanzetta Maurizio mi interludo eh ragazzi il video finisce qua ci vediamo un'altra sera ciao ciao ciao